Voi lo sapete che dopo domani abbiamo la rivincita col barborgano, lo sapete? E quell'altro si è fatto restare. Voi siete negati perché nel vostro piccolo siete negati, lo sapete anche questo. E gli altri due l'avete visti come giocano? Biciclino e braccio d'oro. Eh, bravo. E io con chi gioco? In coppia con chi? Mio nonno. Chi? Mio nonno. È stato campione di Goriziana nel torneo barbiere del 49. Dura? Davvero? Abbiamo la coppa in casa, è lì sul pianoforte. Devono venire a chiedermelo in ginocchio. Ma dai nonno, mi hanno mandato a me per chiedertelo per piacere. E cosa vuol dire? E cosa vuol dire? Vuol dire che quelli del bar Margherita con tutte le aria che si danno, eh? E dunque hanno bisogno di uno del bar Billy, eh? È così o no? Va bene, hanno bisogno di uno del bar Billy. Comunque se vi mettete assieme, tu e Al secondo me siete una coppia che fate nero chiunque. Devo dire che a Dali il nonno li state subito sui maroni. Mio nonno? Allora l'idea è questa. Sicuramente lo sanno come gioco io. Io so come giocano loro e sono forti, ma nessuno sa come gioca lei. Quindi noi dovremmo stare un po' in difesa. Dobbiamo cercare di non fargli vedere le piglie, cerchiamo di mettere in difficoltà, di non regalargli dei punti, di essere aggressivi. E' finito. Va a cagare, va. Va beh. A domani. E' soccome. Venne la sera della sfida e quando arrivarono quelli del bar Morgana con i loro tre sostenitori, ci furono le presentazioni. Come Emanuele il suo piccolo è assente, diciamo. Lo sappiamo tutti che è in galera. Vabbè, dov'è? Comunque gioca questo qua al suo posto. Piacere, biciclino. Come andate. Piacere, braccio d'oro. Guardatevi, ci diamo la stecca e facciamo per chi parte, va. Ale. Gioca benissimo. Cominciamo bene. L'infermire. grande si vince è una passeggiata la partita è oggi ma è negata ma putta la galera ti è ritirata proprio così te stai tranquillo e vai a cagare sei a loro 10 fatti no no questa me la faccio a occhicchiosi cambia molto visto come giochi con gli occhi aperti allora stai infornando dai 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 andiamo fuori dai vai fuori adesso che mi stavo scaldando vai via l'unico compo che porta sfido 늘 dattolo via dai lo schifo bravo figura di merda la partita avrà dov'impera arrivederci